Salve a tutti, sono il dottor Del Fattore, sono responsabile dell'unità di fisiopatologia del tessuto osseo all'ospedale Pedialico Bambino Gesù in Roma. La nostra unità di ricerca si occupa di comprendere i meccanismi molecolari e cellulari alla base di patologie osse e di identificare nuovi biomarcatori diagnostici e prognostici e nuovi approcci terapeutici per displegie scheletriche. La nostra attività di ricerca prevede una stretta corroborazione con le unità cliniche del nostro ospedale, inoltre molte patologie osse pediatriche sono patologie osse rare, pertanto il nostro obiettivo è anche quello di identificare nuovi approcci terapeutici per i pazienti affetti da queste patologie al fine di identificare una terapia sempre più mirata e personalizzata. In particolare il nostro gruppo di ricerca si occupa di identificare le cause che sono la base della malattia di Goram Stout, una malattia estremamente rara caratterizzata da osteolisi progressiva e proliferazione angiomatosa. Inoltre la nostra attività di ricerca ha permesso di identificare le cause delle alterazioni scheletriche che si riscontrano in pazienti affetti da cistinosi nefropatica.